Giovanni Ferrari, vice sindaco di Finale Ligure, ospite in trasmissione negli studi di Radio Onda Ligure, per lui un po' un ritorno al mondo della radiofonia, giusto? Eh, sì, sono passati 35 anni circa, dalle prime esperienze dei pionieri delle radio libere, vuol dire, no? A finale c'erano due radio, appunto Radio Ligure e Radio Città Finale, un po' abbiamo collaborato con uno, un po' con l'altra ed è stata un'attività veramente divertente, anche perché tutti i giorni si andava in trasmissione ma non si sapeva poi se la trasmissione finiva, vuol dire, non si sapeva se arrivava il DJ, perché era tutto legato agli impegni di studio o a quello che i genitori se ti lasciavano uscire o meno, vuol dire, e quindi molte volte si sentiva la radio muta, allora uno correva, andava là, trovava il garage, perché si trasmetteva da un garage vuoto e si sedeva lì e cominciava a improvvisare, a fare qualcosa, vuol dire.